Il Comune di Domodossola cerca docenti per l'Università della Terza Età. C'è tempo fino al prossimo 26 agosto per presentare domanda per esso l'ufficio protocollo tramite PEC. Si cercano insegnanti o specialisti con titolo di studio e competenze, specializzazioni, esperienze professionali ritenute utili per l'espletamento dell'incarico, compenso 25 euro orari. Le lezioni si terranno presso un'idonea struttura designata dal Comune nel periodo compreso tra ottobre 2024 e maggio 2025, con uno o due incontri settimanali, quindicinali o periodici, ciascuno della durata di una o quattro ore a seconda della calendarizzazione che seguirà quella scolastica e che sarà concordata tra gli insegnanti selezionati e responsabili del servizio nel rispetto delle reciproche esigenze. La domanda dovrà essere corredata dal programma del corso proposto, specificando il numero delle lezioni ritenute necessarie per lo svolgimento completo del programma. Sarà un'apposita commissione esaminatrice a valutare e a decidere sulle domande pervenute. Le proposte di interesse sono in ambito artistico, archeologico, linguistico, scientifico, tecnologico, letterario, storico, umanitario, musicale, laboratori musicali, creativo e espressivo, medico psicologico, educazione motoria, educazione alla salute, balli, ambiente e territorio o argomenti ritenuti di particolare interesse e stimolo per gli studenti. Tutte le info sul sito del Comune di Domodossola.